Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale Feri ASMR, io sono Federica e questo è un video rilassante in cui vi mostro una parte del mio viaggio in costiera marfilana. Quelle che state vedendo sono le immagini che ho girato a Castellammare di Stabia, il primo posto dove sono stata insieme a una mia amica all'inizio del mese di agosto. È un posto veramente bellissimo, soprattutto per il mare. L'hotel nel quale abbiamo soggiornato si chiamava Towers e adesso c'è una clip in cui ve lo mostro dall'interno. Eccoci entrati nella stanza davvero molto molto ampia. I due letti. Il parquet. La tv. Questa è l'entrata. E ora vi faccio vedere il bagno. Ecco questo è il bagno. Allora c'è uno comodo tutto. Anche questo molto spazioso. Ma poi c'è anche una vasca molto grande. Lavello, lo specchio. Comunque la rivoluzione avverrà nel momento in cui inseriranno dei filtri nella videocamera. Così come avviene anche per il telefono. Questo è un momento molto prezioso, molto importante perché sto per mangiare il mio pranzo. Pizza con qualcosa dentro. Cos'è? Tacchino forse. Non lo so. Ci arrangiamo. Buon appetito. Castello a mare di Stabia è stato il primo posto in cui ci siamo appoggiate. Diciamo proprio un punto d'appoggio. Per visitare i paesi della costiera amalfitana. Qui l'hotel era veramente ottimo. Ma allo stesso tempo molto economico. Infatti per un tre stelle abbiamo pagato molto molto meno rispetto al secondo albergo che poi vi mostrerò. che si trovava in tutt'altro posto. L'albergo aveva una piscina molto molto carina. Ha una vista sul mare. E qui questo era il corridoio che si attraversava per uscire dalle camere alla hall per raggiungere poi il posto, insomma la sala della colazione. Bisognava uscire fuori come vedete. L'unico difetto di questo albergo per me è stato il fatto che le camere avessero l'aria condizionata con una temperatura molto molto bassa. Quindi sì, era nobile anche da noi. Ma ogni volta che uscivamo l'aria intorno alla 19. intanto avete visto il buffet della colazione dei dolcetti. una sfoglia dalle ricciotti. Ho conservato questo clip per farmi ascoltare il crunch. Durante questa vacanza ho visto veramente tantissimi tramonti e sono stati credo l'immagine più belle, quella che conserverò più a lungo nella mia memoria. fantastico cappiano. Qui un altro tramonto. Spero queste immagini riescano a rilassarvi. Ho notato che c'è un'altra ragazza, un mio collega che ha un canone ASMR che si chiama Priscilla e il suo canone si chiama Relax Yourself ASMR. è stata più o meno nello stesso periodo in vacanza in costiera perfidana e ha realizzato anche un video molto diverso da questo. E lei credo sia andata poco dopo di me. Comunque ho preso da lei l'idea di rallentare un pochino alcune immagini. Qui siamo nel secondo albergo, stavolta a Sorrento. L'albergo era il Grand Hotel Riviera ed era, questa volta sì, un albergo molto costoso. ma soprattutto dato che il rapporto qualità-prezzo è stato inferiore rispetto al primo. Nulla da dire né sulla camera, che comunque era più piccola della prima, né sulla piscina. Ecco che sto tentando in questo momento. E ovviamente nemmeno sul mare, la vista era spettacolare. L'acqua era meravigliosa. Poi c'era un silenzio, interrotto solo dal suono delle onde. Guardate, questa della era proprio a picco sulla scogliera. Il prezzo era davvero molto molto alto. E questa era la nostra camera. Come vedete, un po' più piccola della prima. Più modesta, ma forse anche più caratteristica. Eccomi, ci sono anche io. Questo è il bagno. E qui la sala della colazione che sto andando a raggiungere. Forse non si dice, sto andando a raggiungere comunque. Il buffet era ottimo. E nel primo albergo, per esempio, anche il ristorante era veramente ottimo. Qui il ristorante non l'abbiamo provato. Però la colazione era davvero buona. E la vista dalla sala della colazione. Questa era proprio la terrazza. Quella che vedete ora è una spiaggetta ricavata sulla scogliera. Ci siamo mosse comunque con la macchina, in modo da avere quei due punti d'appoggio e poter visitare altre città vicine. In questo spenzone che ho ripreso ci stiamo direggendo verso Pico e Quenze e poi Positano. Non ho purtroppo molte immagini di queste passeggiate. Ma ho preferito godermi la mini, mini, mini vacanza. Guardando tutto con gli occhi piuttosto che con la videocamera. E comunque, nonostante questo, portandovi con me. Registrando qualche momento, qualche ricordo. Comunque, voglio dire su Positano che è una città molto particolare. Perché è come se fosse per gran parte un unico corridoio. E sì, con tanti negozietti caratteristici. Di questa breve vacanza porto con me sicuramente i tramonti di cui vi ho parlato prima. Il ricordo del sole che si tuffa nel mare e le risate insieme alla mia amica. E sì, i momenti di pace da sola con i miei pensieri sono stati sempre pensieri felici. Auguro anche a voi tanti pensieri felici. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like per farmelo sapere. E se ne volete vedere altri iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. E attivate la campanella in modo da ricevere gli aggiornamenti. E noi, come al solito, ci vediamo se vi va. Al prossimo video. Pagini fotosi. Ciao. 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 Ciao.